Buongiorno! Sono tutte 46 Chi l'ha invitato questo? Facciamo braccia! C'è un buco! Facciamo braccia! musica musica ma quanto è bello, quanto ci stiamo divertendo cazzo ma considera che loro sono famosi di rotazione della pana ah ok musica musica le automobili beeeelle a casa per andarsi dall'interno è una cosa più bella si ce la faremo al cento per cento not now sempre aspettarlo sempre aspettarlo bello bellissimo non 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 un grande successo ragazzi un bacione siamo ancora a metà strada dobbiamo tornare indietro bella idea ciao a tutti